E ora abbiamo il piacere di ascoltare Dalla Luce di Giorgia, un classico del repertorio natalizio, accompagnando al pianoforte dal maestro Marco Gattiepini e al pianoforte dal maestro Adriano Moretto, Silent Night. Silent Night, Holy Night, All this custom, all this pride All your worth to modern time correr, heal the soul selbstified Zealand, heavenly peace Sì, sì. 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 Sì.